Passa l'Amburgo e passa l'Underlecht, la squadra che detiene la Coppa, ha perso per 2-1 a Southampton in Inghilterra, Southampton è riconoscibile per la maglia a strisce, abbiamo visto il gol che è stato annullato a Channon e Southampton aveva perso per 0-2 all'andata, si è portato in vantaggio per 2-0. Questo è il gol di Peach sul rigore dopo l'atterramento di Channon che aveva segnato il gol che abbiamo visto annullare prima, al ventesimo del secondo tempo, poi raddoppia McDougall al trentatresimo del secondo tempo, il Southampton è vicino ad arrivare alla disputa dei calci di rigore, ma a 6 minuti dalla fine l'Underlecht segna il gol importantissimo, quello che le consente di continuare a poter difendere la sua Coppa vinta l'anno scorso, il gol è di Wanderlecht e viene segnato a 6 minuti dalla conclusione, allo stesso minuto in cui venne segnato all'andata il secondo gol dell'Underlecht, 2-0 l'andata, 2-1 al ritorno.